Ciao a tutti da Dead Orange e benvenuti ad un nuovo video delle Spy Heroes Reviews! Oggi dopo l'unboxing andiamo a fare la revisione della review di questo fantastico con SproKids level 3 su Batman! Ebbene sì ragazzi dopo l'unboxing che come vi avevo già detto in pratica ai tempi, che mi è veramente un casino stupito, vi avevo permesso anche la review ragazzi e di per se la facciamo! E vi dico anche una cosa che mi era chiesto anche nei commenti, non la faccio in pratica sullo stile delle Spy Heroes Reviews, lo faccio in pratica sullo stile del Spy Heroes Reviews! Comunque ricordiamoci bene semplicemente che l'unboxing era semplicemente una cosa a parte comunque sia grazie e che a me è veramente assolutamente di stucco! Allora ragazzi cominciamo subitissimo ad analizzare il nostro Batman, ne vediamo a vedere dallo scatto ragazzi e vi permetto già una cosa ragazzi, questo modekit qui di Batman è di brutto enorme ragazzi, è di bruttissimo gigantesco! Io quando l'ho acquistato ragazzi pensavo che fosse la stessa scala in pratica della SproKids level 3 su Superman, invece no, è veramente gigantesco, è grandissimo quanto un Gundam di tipo Master e con una buona action figure, tanto per farvi un piccolissimo esempio ragazzi. Questa è una comparazione con uno dei mezzi, il mio migliorare che ho realizzato finora, vabbè? Guardate che lui dovrebbe essere a tono di 10-18 cm, è bassissimo e diciamo che è quasi alto il doppio di questo sacco ragazzi ed è una cosa incredibile ragazzi, cosa che io ovviamente non mi aspettavo per nulla ed è una bella sorpresa anche se un pochino un po' mi dispiace unica critica che muovo e che purtroppo è fuori scala con le mie action figure, proprio in generale, ma io sto a scala solamente con le mie Gundam di tipo Master e con l'unica action figure umana che ho, che comunque possiamo stare con la mia action figure storico che non mi ricordo bene da quale linea è, ma comunque ragazzi vedetelo, eccolo qui ragazzi, e diciamo sta anche in scala con i Gundam di tipo Master, quindi diciamo è una buona stranissima sorpresa ragazzi. Comunque sia, ragazzi e lo cominciamo subitissimo ad analizzarlo, e devo dire che la figure è fatta davvero molto bene, ragazzi, è vero, io l'ho pannellata completamente, diciamo come unica modifica custom, ho fatto delle varie pannellate in generale, però in generale a modo è fatto veramente molto bene ed è uno scarpe veramente molto simile al Batman che si vede nella saga di Arkham, in pratica di Arkham Asylum e Arkham City dove utilizzo questo costume, ragazzi, guardate gli stivali sono fatti veramente molto bene, ragazzi, hanno questo bellissimo effetto qui di grigio plastica, non ho capito bene che colore sia, ragazzi, però un pochino metallizzato e la cosa ci sta molto bene, anche qua in pratica le parti che mi sono fatte bene, con esse anche la cintura, ragazzi, qui la parte del busto è veramente molto ben scolpita, e vede molto ben scolpita anche la muscolatura e tutto il resto, anche il simbolo di Batman che è sempre da attaccare, in pratica come pezzo separato e non come decals, ci sta davvero molto bene, ragazzi, anche qua la parte qui dei guantoni è fatta di brutto bene, ragazzi, proprio, e compresi anche questi qui bellissimi metalli qui sotto le spalle, anche qui la parte, vabbè, dietro ci sta molto bene, ragazzi, e anche questa bellissima parte è veramente fatta molto bene, più anche la testa del nostro Batman, che è molto somigliante, voglio dire, forse non l'unico che si muove, in pratica, è un pochettino il mentone che ha Batman, è un pochino troppo assurdo, nella saga di Arkham non mi sembrava così, ma forse faccio uno sbaglio, perché non mi sono mai documentato bene su questa cosa, comunque, ragazzi, ci sta molto bene, poi vedendolo da vicino, si balzo intanto all'occhio questo qui, ma se vogliamo da lontano, in pratica, vabbè, ci sta molto bene lo stesso, quindi diciamo che ha un dettaglio molto interessante, ragazzi, se poi voi sapete accoraggiarmi meglio di diritemelo anche nei commenti, ragazzi, prima di passare all'accesso di questa figura qui, voi parlare un attimino, in pratica, di come ho tolto il montaggio, ragazzi, perché diciamo che alcuni voi lo vorranno già comprare, ragazzi, quindi ve lo dico già, è un montaggio molto facile, come avrete visto dall'unboxing, davvero molto semplice, molto intuitivo, molto facile in assoluto, proprio da benissimo montare i pezzi, che staccano via facilmente, di base, viene già qualcosa di chiarino, ma io ho voluto, diciamo, una panel line simpatica, e sono riuscito a preparare bene la taglia, l'unica cosa che potrò porto, un altro numero di montaggio, qui per sbaglio, ho leggermente danneggiato un pezzo, leggermente sul piede, ma tranquilli, nulla di otto, tutto anche riparato, ragazzi, però, quello è stato un errore mio, perché sono molto sbattato quando monto in vodeck, ragazzi, comunque, vi dico già che comunque Batman si monta veramente molto bene, ragazzi, se ve lo comprate, ragazzi, ha fatto veramente da Dio, l'unica cosa che poi non vi ho detto prima, in pratica, c'è il mantello qua dietro, ragazzi, che a differenza di Superman, nel livello 2, qui invece è fatto molto bene, in pratica, è un mantello di una stranissima stoffa, molto strana, non sapete neanche bene, o dire, ragazzi, che ci sta molto bene, l'unica critica che smuove questo mantello, che secondo me è un pochino troppo piccolo, mentre invece poteva essere un pochino più largo, e si poteva mettere un po' meglio, ragazzi, sì, perché nella serie di Batman, Arkham, il mantello è molto più grande, ma la cosa si è credo è facilmente sostituibile, con anche una buona stoffa, ragazzi, quindi diciamo che potremmo esserci anche in seguito se camberi, in pratica, il suo mantello, ragazzi, comunque, ragazzi, ve lo dico già, e non lo nego, qua così va veramente molto bene, questo modello di kit qui su Batman, quindi, va già bene così, ragazzi, è una piccolissima critica che smuovo io personal, poi magari, ad altri, sono sicuro che non dà fastidio, però comunque, a me sì, adesso, ragazzi, diamo gli accessori a questo Batman qui, che non sono troppi, ragazzi, ma sono anche abbastanza, e anche molto interessanti, per cominciare, abbiamo le mani intercambiabili, in pratica, che sarebbero, in pratica, queste due qui, ad un palmo, proprio per impugnare, in pratica, vedete, questi qui, sono per impugnare, in pratica, i vari accessori che ha, il nostro Batman, semplicemente, sono fatte, così, in questo metodo, una destra, e una anche sinistra, carina, la cosa, e poi, c'è l'ultima mano, in pratica, che è così, a palmo aperto, anche se ne avrei preferito, anche una seconda, ragazzi, che poteva andarci, anche un po' meglio, e poi, c'è una bella, le mani, a palmo chiuso, che avrete, sicuramente, già notato, ragazzi, per cominciare, abbiamo, questo bellissimo Batman, che è, veramente, fatto, veramente, molto bene, ragazzi, non bene, le cose, poi, metallizzate, vabbè, la forma, è, praticamente, la stessa, del Batman, che utilizza, lui, che è, veramente, fichissimo, ragazzi, bellissimo, poi, abbiamo, un doppio modello, di rampino, ragazzi, questo qua, in pratica, semplicemente, così, la pistola, spara, spara, rampini, in pratica, tutto qua, con nulla di, di particolare, però, mi ricordava, benissimo, che la utilizzava, in pratica, in pratica, in Batman Arkham, Asylum, proprio, all'inizio, cioè, in pratica, tutto qua, e, mi ricordo, che non aveva un pezzo molto particolare, che c'è, in questo modello, qui, di spara, rampino, questo qui, in pratica, è, alla punta, un po' più metallizzata, per, aggrapparsi, un po' di più, ragazzi, questo, mi ricordo, che, nel Batman Arkham, Asylum, la recuperava, molto facilmente, ragazzi, e, devo dire, che, veramente, molto bella, ragazzi, ci sta, anche, molto bene, sebbene, purtroppo, diciamo, queste parti, qui, non hanno, una coloratura, che potevano, anche fare, vabbè, cosa, cosa, cosa potevano farci, che, solamente, non ci hanno fatto, ma, vabbè, ci possono, anche, passare sopra, magari, per alcuni altri, sono, un po' più fastidio, ma, per me, no, quindi, ok, e l'ultimo accessorio, che, in pratica, sarebbe, il gel esplosivo, io, in pratica, eccolo qua, oppure, per, iniettarsi, in pratica, delle cose, in pratica, perché, adesso, fuori, eccolo qua, in pratica, il gel esplosivo, per, per chi non ha giocato Batman, Arkham, Asylum, Batman Arkham City, per, semplicemente, un gel, che, semplicemente, si spruzzò, contro, al muro, e, che, che, poi, Batman, lo fa detonare, in pratica, come, una pompa, tutto qua, ragazzi, comunque, ci sta, molto bene, anche, la stessa forma, un po', in pratica, anche, un po', di, di quelle, altre cose, che, Batman, a volte, si, iniettava, in pratica, per curarsi dalle malattie, e, che, che, rischiavano, di uccidere, che, ci sta, davvero, molto bene, ragazzi, comunque, ragazzi, questi accessori, qui, sono, facilmente, impugnabili, per, il nostro, Batman, semplicemente, prendendo, così, il nostro, Batman, e, staccando, in pratica, la mano, ragazzi, montando, semplicemente, questa, qui, si può, andare, a, mettere, in pratica, gli accessori, che, più, vogliamo, come, per esempio, questo, spararampino, ragazzi, che, ci sta, molto bene, ragazzi, e, basta, puntai, puntarlo, ragazzi, ed è, veramente, molto, bello, forse, l'unica cosa, che, mi, mancherebbe, questo, spararampino, che, ci penso, sarebbe, stato, un accessorio, a, 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 ragazzi, sì, così, per, dargli, la, posizione, in pratica, che, la, sta, sparando, ma, ma, vabbè, ci sta, anche, che, molto, bene, così, ragazzi, e, adesso, ragazzi, passiamo, alle, articolazioni, questo, Batman, che, adesso, vediamo, per, bene, allora, in pratica, c'è, la, testa, che, si, muove, in, pratica, ben, così, in, 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 alto, ed, indietro, ragazzi, si, ruota, così, in, questo, metodo, un, po', a, 360 gradi, e, c'è, un, leggero, piegamento, inclinamento, laterale, così, vabbè, poi, c'è, un'articolazione, speciale, in, pratica, qua, sulle, spalle, in, pratica, su, questa, spalla, in, pratica, come, voi, potete, vede, lì, così, di, essere, piegata, in, alto, ed, in, basso, così, in, questo, metodo, in, modo, così, di, aiutare, per, bene, quando, si, va, a, poter, usarlo, in, pratica, con, la, spalla, ragazzi, che, davvero, molto, buona, ragazzi, come, va bene, affetto, del, mantello, poi, c'è, l'articolazione, del, braccio, che, montata, questo, speciale, qui, giuntino, con, estrazione, in, pratica, una, specie, di, butterfly, joint, ragazzi, come potete vedere, può, essere, stato, in, questo, metodo, qui, wow, davvero, molto, bene, ragazzi, rotazione, in, pratica, del, 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 comito, vabbè, c'è, rotazione, con, questo, metodo, qui, piegamento, doppio, così, in, questo, metodo, qui, ragazzi, davvero, molto, buono, diciamo, non è, totale, ma, oppure, ci, può, sta, anche, molto, bene, e, c'è, il, movimento, al, polso, poi, c'è, l'articolazione, al, busto, è, costante, di, essere, se, è, piegato, in, avanti, in, questo, metodo, qua, lateralmente, così, e, così, in, questo, metodo, e, piegamento, all'indietro, ragazzi, poi, c'è, l'articolazione, al, legame, in, pratica, si, deve, fare, la, spaccata, completamente, massima, ragazzi, wow, fantastica, e, qua, c'è, la, rotazione, in, questo, metodo, qui, ragazzi, il, calcio, in, avanti, fino a, questa, altezza, impossibilità, dal, fattore, mutanda, ragazzi, e, anche, così, all'indietro, impossibilità, da, fattore, mutanda, poi, c'è, il, 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 piegamento, così, in, questo, metodo, qui, diciamo, non, proprio, totale, ma, ok, ci, può, stare, anche, bene, ragazzi, e, poi, c'è, il, movimento, al, piede, in, pratica, il, costante di, essere, piegato, in, alto, in, questo, metodo, e anche leggermente più in alto così grazie a questo leggerissimo sistema ma qui e c'è anche una leggera inclinazione laterale alla caviglia che devo dire che la cosa ci sta davvero molto bene quindi come potete notare in pratica nonostante che gigantesco il nostro Batman ha delle ottime articolazioni sebbene non proprio perfette che consentono comunque di essere posato in tantissime varie pose ragazzi cosa veramente molto ottima per questo modello ragazzi bene ragazzi a questo punto qui possiamo vedere l'altezza del nostro supereroe Batman facciamo quelle comparazioni varie ma davvero poche di questo giro qui ragazzi perché non c'è molto come compararlo lo mettiamo una posa figa e gli diamo il voto finale questa figura qui su Batman è alta un po' vediamo un po' praticamente sui quasi ben 23 cm e anche superati gli e mezzo ragazzi diciamo che manca pochissimo ragazzi quasi neanche mezzo centimetro per superare i 24 ragazzi e l'uovo come altezza vuol dire che è veramente gigantesco ragazzi se comparato diciamo agli altri modelli della mia collection ragazzi incredibile e per Batman questo è il primo paragone in pratica con una delle prime action figure che ho comprato su Batman diciamo ai tempi delle spray heroes questo multiverse qui Batman di Ben Affleck ragazzi che come potete notare ragazzi è davvero piccolino è un confronto proprio se comodato in pratica al nostro Batman ragazzi Batman lo supera veramente un casino di altezza è proprio quasi un giocattolino ragazzi incredibile ragazzi questo Batman qui è una scala veramente incredibile di sicuro non è la mia action figure più grande che la mia collection ma ragazzi devo dire che caspita in ragazzi se è gigantesca lo è di brutto ragazzi altro paragone in pratica con la mia Marvel Select su spettacola Spider-Man ragazzi che è di brutto anche un po' più grande anche del Batman del multiverse ragazzi che anche lui si rivela piccolino ragazzi non è in scala proprio con il nostro Batman accidenti ragazzi a questo giro qui di recensione ragazzi non ve lo metto a comparazione con la mia solita Marvel Select quello Spider-Man Homecoming perché si ragazzi a sto giro beccatevi lui ragazzi l'altro paragone anche con lo sprocchiezza di livello di Superman che è il primo che ho comprato ragazzi che è veramente Batman è gigantesco che lo fa sembrare quasi un giocattolino effettivamente con questo mini Superman ragazzi e mi dà anche una piccolissima idea ragazzi su come dare una bella posa ed eccovi qua Batman messo in questa posa diciamo leggermente figa si potrà fare un po' di meglio ragazzi e lo so benissimo ragazzi ma avevo detto alcune cose io ci provo con tutta la mia forza a fare il posing ragazzi fatto bene ma non sono proprio per me un po' attanto comunque ragazzi ci provo anche comunque tanto per bene poi questa qui poi l'autizia anche nella posa figa comunque ragazzi senza perderci un ulteri tempo ragazzi che dire rapidamente su questo Batman qui allora come sapete un'anti la linea della sprocchia per me è stata un'interessante sorpresa che io veramente non mi aspettavo mai poi mai era tema super eroe ragazzi è uovo accidenti e nulla qua io diciamo ho scoperto proprio a vero a por caso mentre ho acquistato il Superman ragazzi con la stessa serata lì avevo i soldi già pronti su vado a fare questi online ragazzi io non la facendo ricerca così a caso ho scoperto che esisteva altri tantissimi modi questa propria compagna è in realtà due all'inizio in pratica del livello due ragazzi ma è quello di uno di Batman sempre di questo tipo qui ma un pochettino in scala minore e anche c'è anche il Batman che non mi ricordo bene che ha di Christian Bale ragazzi che a me sapete non piace troppo agli ragazzi però diciamo che rapidamente ho scoperto l'ho fatto un piccolo sacrificio ragazzi ho voluto comprare ragazzi perché siccome meritava veramente di più ragazzi e poi diciamo il Batman di Arkham è spettacolare uno di Batman migliore in assoluto ragazzi quindi diciamo non ho potuto resistere all'istante ragazzi dal non prenderlo e dal giungerlo nella mia collection anche se purtroppo non ho spettato purtroppo la spiacevole sorpresa che non è proprio nella stessa scala per le mie action figure ragazzi comunque devo dire che questo Batman qui si è rivelato a tutti gli effetti veramente molto ottimo come action figure veramente molto ottimo allora per cominciare da come è stato in generale è veramente fighissimo ragazzi già iniziare un action figure così è veramente molto bello ragazzi e l'ho visto solamente per pochettina ragazzi un Batman di questo tipo qui ragazzi mi ricordo che c'era uno che di Arras Rebus aveva dipinto ragazzi ma questo qui è tutta altra roba ragazzi è veramente fantastico ragazzi e poi anche pannellarlo ne abbassa proprio la pena e poi anche faccio come montaggio ragazzi quindi ci sta molto bene e anche abbastanza ben articolato e anche un bel po' di accessori ragazzi e quindi voglio dire che ci sta davvero molto bene è un bel oggettivo in pratica per chi è mantenere i model kit come i miei ragazzi che vuole comprarselo ragazzi ve lo consiglio veramente in pratica se volete proprio un bel Batman special ragazzi ma dovete avere qualche dimestichezza con i model kit almeno o minimo ragazzi ve lo consiglio vivamente poi si può anche andare a fare di meglio in pratica costruire il mantello ragazzi che secondo me sia bene il mantello forse fa i lati negativi possiamo dirlo è una piccola lati che poteva anche essere un pochino più grosso in pratica ma poteva essere migliorata anche un po' la cosa qui del mento qui da faccia che personalmente non mi fa molto impazzire ragazzi con le alte costruzioni che potevano andare a fare un pochino di più e magari gli accessori siano un pochino più colorati almeno non mi avevano qualche parte di più diciamo direggiamente più colore per me andava anche meglio ma va bene anche così ragazzi per me va anche benissimo anche per questi accessori qui solo che mi ha curato alcuni voi diranno che magari ci potevano essere un po' più accessori oh ma io mi accontento così ragazzi tutto qua ragazzi quindi ragazzi credo sia giunto un momento di dare il voto finale il voto finale che voglio andare a dare nonostante un paio di suoi difetti ragazzi è un 8.5 ragazzi un 8.5 un 8.5 non arriva per il 9 perché perché per gli accessori vedi i difetti che era un po' le piccoline articolazioni e anche un po' per questa faccione qui che mi pare un po' difficile per questo comunque sia buona action figure magari anche per la scala gliela chiedo anche questo voto diciamo purtroppo perché se fosse stato anche la scala un po' più giusta un pochino più più basso secondo me sarebbe stato proprio perfetto ma diciamo che così purtroppo non ragazzi però visto che dai nespo kit esistono altri modi il kit di livello 3 come per esempio il stay master che mi interessa veramente è un casino e che magari potremmo anche prendere anche se confesso una piccola cosa non seguo la saga di Halo ma mi piace comunque il livello di armatura tutto qua ragazzi siccome per chi lo sapesse per chi lo sapere quindi ragazzi ve lo consiglio in tributo il prezzo attorno a cui seggia attorno ai 45 euro ragazzi o anche 60 euro ragazzi si eseggeva più o meno dai 45 euro in su ragazzi ricorda già di fare attenzione ragazzi perché non ne vale le troppe ne vale più o meno 50 secondo me o 45 ragazzi perché è un master che da tutto qua è molto più grande è proprio impegnativo ragazzi e mi pare se ve lo vendono a più prezzo è veramente un grandissimo foto state molto attenti quando andate a cercare ragazzi tutto qua ragazzi questo figure consigliatissimo ragazzi chi siccome piace veramente un casino che sono fan dei batman o che vuoi Nobel Batman da collection questo qua ragazzi comunque ragazzi questo mio parere personale che vi ho detto su questo batman ragazzi con questo il mio rave si conclude qui ragazzi quindi come sempre mi sono i soliti inviti meglio quello che se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace un bel commento e di fare una piccola condivisione comunque voi avete il mio canale poi in descrizione trovate il link alla mia pagina facebook come mi raccomando visitata dove trovate le foto di miei modelli e anche i video di montaggio su questo bellissimo batman ragazzi e anche le novità più interessanti sul mio canale che vi porto e se non siete ancora iscritti se siete al mio canale in modo da parte di tutti i miei prossimi video dove future ragazzi devo fare in pratica dai vlog ragazzi alle Google review social contro i modelli Gundam super robot so che sono iscritti con tutte le materie a tema super robot tonico e adesso per chiuso rivedo ci si scontruttano materia a tema super previsto con stato action figures e modekit molto alto ancora e le ore tre box e giocattoli ma non solo molto alto ragazzi è andata cosa interessante a collezionismo quindi ragazzi questo prodotto noi ci vediamo al prossimo video ragazzi vi ringrazio mille per aver guardato questo video qui e noi ci vediamo al prossimo video un cero da me e da questo fantastico modekit su batman ragazzi che è veramente fantastico vi lascio con qualche cosa figlia e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao Grazie a tutti.